Ospite dell'inimitabile è il vice direttore di Donna Moderna, Simona Tedesco. Molto galantemente, Luca le prende la mano. La collega Simona Tedesco, vice direttore di Donna Moderna, grazie di stare con noi stamattina. E continua a tenergliela. Del suo bel giornale. Oh, non vuole saperle di lasciarle la mano. La grande attualità. E basta. Oh, finalmente l'ha lasciata, ma del resto Luca è fatto così. Quando vede una bella donna non si trattiene, infatti, in quest'altra puntata, sono ospiti tre rappresentanti del gentil sesso. Guardate come si comporta. La prima l'ha baciata. Benvenuta a una mattina. La dottoressa notaio, Maria Antonietta Ventre, cara signora, lieto di vederla. La seconda non la bacia. La terza la bacia. Oh, avete capito? Quel cascamorto di giurin giurato ha baciato le due avvenenti fanciulle, sdegnando la signora Piuagge. Cara signora, lieto di vederla. E la nostra deliziosa amica Maria Grazia Nazari, attrice. Luca, Luca, così non si fa. La signora ci è rimasta pure male. Ma la donna che più ha fatto girare la testa al ribelle di uno mattina è la sua collega di qualche anno fa, Paola Saluzzi. Guardate come le guarda il posteriore. E poi, pensando di non essere in onda, cosa dice? Benpulo. Come? Benpulo. Hai capito che giornalista d'assalto? Nonostante l'età, quando si imbizzarrisce per una donna, sono guai. E basta Luca, così la soffochi.